70 film Partiti Vittorio Italiano in Palio Qui vediamo un po' il corpione delle batterie con Matteo Bruzziani Gittirio Erba poi Matteo Giana Tottagiavue il migliore d'Italia il migliore di Roma su una loro autista di casa è stato per una per una azione con sempre con se non vede 111 poi 111 si la cassa di con video erba con i punti punti 50 47 50 47 47 47 47 50 48 48 48 49 49 50 50 50 50 50 51 51 67 51 57 51 51 57 51 57 Pugli meno 18 per lui, 51,7, 5,1,7, per lì pochissimo i pugli e gli amici, 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 adesso siamo in piccolo, 1, 2, 12, 500, 11, 51, 51, 41, 41, 41, 41 in posizione, 44, prima ozione adesso stanno tagliando due che si pagano di intervistare la natura con prima ozione è un po' nuovo gioco vai Giorgio i due e un po' usato i gas punti 51 111 51 1 1 1 8 punti in Giorgio Erba Roma con le unie e i due denti ha rimanato attaccato il campo taglia 2 ai due e un quindi siamo al passaggio Campana 1 9 in Giorgio Erba Andrea Giolo entrambi già campioni italiani due volte campioni italiani numero 64 seconda ammazzone entra in diffida 6.8 in Giorgio Erba punti di meno 8 51 111 sale a 10 punti quindi Giorgio Erba sale a 5 andare a 9 modo tanto si fanno non si guardano vai tutti ma intanto il tiro davanti aumenta il mandaggio ci sono scappati non serve come la torta poi gli due non fate la città alla gruppa e il battito Matteo Polchiani e Matteo Gianghi sono battiti alla caccia di venire 111, 51 al passaggio 111, 51 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.